Amici, siamo qui, siamo qui che ancora ridiamo, ridiamo alla grande, ridiamo alla grande sulle due dita. Io capisco, capisco tutto, però la prostituzione in Italia è un reato e lo sfruttamento della prostituzione andrebbe sanzionato con una bella serata almeno in gattabuia, perché l'Italica Stampa non può, tutti i siti dopo che in tv hanno detto che il 47-1 modifica il suo stile di guida, perché non frena più con tre dita, ma frena con due, tutti i siti, tutti sono pieni, Valentino modifica il suo stile di guida, non frena più con tre dita, ma frena con due, oh, ma ci rendiamo conto? Io non ho parole, cioè voglio dire, va beh, ha fatto quinto, bella prestazione con la gomma, bravo Valentino, però che la sta, colleghi, ma come caspita siete ridotti, due dita, cambia lo stile di guida, ci hanno fatto un pistolotto in televisione di un quarto d'ora, tanto per offendere ancora Lorenzo, eccetera, poi, ma cos'è, cos'è i confini della realtà? Ragazzi, siamo proprio alla frutta, no, alla frutta no, al digestivo, al costo, è una cosa incredibile, nella MotoGP stanno accadendo cose, no, davano tutti Zarco in Yamaha, eccetera, Zarco è andata all'onda e probabilmente ci resterà, c'è in pentola bolle di tutto e di più e l'argomento del giorno sono le due dita del dottore, cari colleghi, mi fa molto piacere, sono orgoglioso di essere diverso da voi, di essere stato sempre diverso da voi e di essere stato brusco. Ad Maiora.